È stata un'edizione della Fiera Antiquaria tra luce e ombre, quella di febbraio. Se da un lato i dati dell'edizione appena trascorsa registrano un'inversione di tendenza per quanto riguarda la presenza degli espositori in aumento rispetto all'edizione di febbraio 2014-2015, dall'altro di pari passa all'aumento numerico stanno crescendo anche le lamentele degli stessi antiquari. Mi sembra ricordare 297 espositori contro i circa 235 o 236 dell'anno scorso e i poco più di 200 del 2014. Quindi il numero di espositori è in crescita rispetto di quanto ho letto in alcuni articoli di stampa. Il numero e la presenza turistica io non la so valutare ma mi è parso di vedere tra i banchi tanta gente. Non so gli affari come sono andati, ecco le vendite, ora è febbraio, è un mese un po' di stanca perché è finito Natale, si sono spesi tanti soldi lì, quindi non so come sia andato dal punto di vista del risultato economico. Però io credo che sia stato un buon risultato netto. Dobbiamo abbandonare perché il gioco è un valore a candela, se no si fa come quello, sa? Comprato agli oli, li bruciava per vendere la ceneri. Guarda quelli nuovi che vengono roba nuova, che vengono su da Verona, qui, là, ce n'è. Roba nuova, io secondo me, è una fiera antiquariata come Arezzo, quelli non dovrebbero farli piazzare. Alla Spezia c'è un architetto che ha detto, se porti roba nuova ti ricarichi e vai a casa. Tutti quelli che sono abusivi, che non vengono scoperti, che si piazzano al posto degli assenti e fanno finta di essere i titolari. Primo problema. Secondo problema, la miriede di altri mercati che non sono ufficiali, ovvero che li fanno da privati collezionisti quando invece non sono collezionisti, ma ne fanno almeno uno a settimana.